A mezzanotte in punto, son pronto ad aspettare quando ecco all'orizzonte il trepidante Robespierre con quel sorriso eterno ma un po' rincoglionito sa tarda per fermarsi un po' con me al diavolo francese, da quando sei partito si è trasformata in polvere la nostra volontà di prenderci sul serio provando a immaginare rivoluzioni e nuove verità d'altronde è quasi certo che dalle nostre parti c'è un posto per ciascuno e a tutti un'opportunità prova a darmi retta la nostra buona sorte vedrai che presto si riavermerà in barba agli assassini di un'altra ghigliottina c'è chi si taglia i baffi per nascondere l'età la sila luna piena ci mostrerà la strada e un barbagianni ci accompagnerà per quel che mi riguarda mi farà brividire le guance di una donna cerba che conquisterò ma non cambiamo tema ce n'è da lucubrare qualcosa per servirti inventerò ti prego non andare ma hai già lasciato solo quel giorno all'improvviso che non dimenticherò ti prego non partire finché non sarà tardi potremmo divertirci ancora un po' grazie a tutti